Mister Diamante dello Spinete dopo la sconfitta di Baranello arriva anche quella interna con il Roccaravindola, subito lo svantaggio dopo appena sei minuti, poi il pari al venticinquesimo nella ripresa avevate il vento contro, insomma avete subito un po' il Roccaravindola che oltre il 2-1 poteva arrotondare il risultato. Il rammarico è proprio quello, è stata una partita condizionata tanto dal vento ma come ce ne saranno tante altre durante il periodo infernale, qui è così. Il rammarico è quello di non aver interpretato bene la gara perché il primo tempo a favore di vento abbiamo fatto troppo poco e poi si sa che il secondo tempo contro vento la partita cambiava, loro sono stati più bravi di noi. Sì, dunque un solo punto in quattro partite, sicuramente un bottino misero, tempo ovviamente di riflessioni. Sì, abbiamo raccolto troppo poco per quello che abbiamo fatto, perché ovviamente per esempio con Riccia, Baranello, forse per chi ha visto la partita meritavamo qualcosina in più, obiettivamente la sconfitta è meritata, quindi sicuramente c'è da fare una riflessione, vedere le cose che non sono andate e cercare di sistemarle il primo possibile. Mister Milano del Roccaravindo, la quarta vittoria di fila su un campo difficile come quello dello Spinete, quattro vittorie sicuramente tante in un girone così equilibrato, una buona prestazione, l'avete sbloccata ai primi minuti, pari subito con una sfortunata autorete, ma nella ripresa vi siete riportati in vantaggio e avete anche sfiorato il Triss. Sì, siamo contenti per questa vittoria, per dedicarla ad Aldorindo Tartaglione, storica figura e uno dei padri fondatori della polisportiva Roccaravindola, quindi questa vittoria a nome mio, dei calciatori e di tutta la società è dedicata a lui. E' stata una partita complicata per tutte e due le squadre perché purtroppo con queste condizioni meteo, con questo vento che spirava forte a tratti sì a tratti no era abbastanza difficile. Nel primo tempo siamo stati noi a doverlo subire, nella ripresa è toccata lo Spinete. È stata una partita maschia, ben giocata da ambe due le squadre, sinceramente poteva essere aperta a qualsiasi risultato nel momento in cui poi loro sono riusciti ad impattarla. Noi siamo stati però bravi a chiudere le loro linee di passaggio, a cercare di pressarli un po' più alti per non farli respirare. L'unica nota negativa, se vogliamo, è che poi sul 2-1 abbiamo avuto almeno tre occasioni clamorose per chiudere la partita. Non l'abbiamo sfruttato e questa cosa ci poteva costare cara, però ci sta nel percorso di crescita di una squadra molto giovane che giornata dopo giornata sta acquisendo esperienze e quindi va bene così. Sì, dunque vi godete questo momento, sarà sicuramente una settimana importante, quella che vi avvicina alla sfida con la Esernia. Certo, sì, riuscire poi ad ottenere queste quattro vittorie consecutive ci dà morale, ci dà fiducia, ci dà energia, quindi poi per preparare le partite successive è sempre più semplice. Sabato sicuramente ci aspetta una partita molto difficile, conosciamo perfettamente il valore della Esernia fraterna, sappiamo che è una delle candidate al salto di categoria e noi proveremo a fare come sempre la nostra partita e vedremo cosa ne verrà fuori.